Che nemici benvenuti al nostro settimanale appuntamento quiz cos'è questa questa è una pila al litio proveniente da un computer portatile computer eliminato pila al litio dove va messa domanda quiz ci sono gli appositi contenitori per le file le avete visti gialli ne avevamo parlato erano stati sollecitati me ne ero occupato negli anni anche come difensore civico ma questi nuovi contenitori hanno una caratteristica possono contenere solo le pile quelle piccoline e questi oggetti non li contengono quindi considerando che queste pile sono altamente nocive se prendono fuoco se vanno mischiate con altri rifiuti assolutamente non bisogna farlo sono delle bombe inquinanti queste pile anche perché pesano parecchietti quasi un chilo quindi pensate quanta sostanza pericolosa problema è dove metterli questi contenitori visto che ormai i computer portatili sono diffusissimi potrebbero avere una terza bocca anche per pile da computer proverò a darla qualche negozio che vende computer molto probabilmente loro sono attrezzati ma in sé ho voluto sollevare la questione perché in effetti il cittadino che voglia fare la raccolta nel modo giusto della spazzatura quando si trova oggetti di questo tipo si trova un po in difficoltà e ne approfitto per ricordare che le pile vanno sempre nei di appositi contenitori attualmente a chiaveri ne sono stati messi parecchi nuovi gialli belli si vedono anche con la nebbia quindi utilizziamoli non buttiamo le pile della spazzatura con tutto il resto Grazie mille Grazie mille